1126 a Meloni abbiamo detto di sollecitare la soluzione della situazione della barca a visto la situazione con i tuoi occhi. È una ecologica. Un brutto inquinamento ambientale. Ci ha garantito che le barche saranno rimosse in 45 giorni. Tempo lo fanno hanno 1.012 mila euro. Danni perché le reti rimangono bloccate nei relitti ha giunto il vice sindaco. Le abbiamo detto che la situazione è particolare qui. Siamo preoccupati perché questa isola di 20 chilometri quadrati non può partecipa a questo flusso. Migranti.